il montepone vince a tropea 3 a 0 ma perché tropea si è ritirato e allora ecco che abbiamo disturbato mister pisano per poter fare un attimo il punto prima di un tour de force che vedrà appunto la squadra del montepone arrivare fino al big match col san calogelo mister hanno sospeso le scommesse tutti puntavano sul 3 a 0 a tropea come all'andata sì per una volta si vince prima di giocare solitamente questa sarebbe stata una trasferta sicuramente non facile perché il tropea comunque si sa che è un campo complicato però diciamo noi prendiamo questi tre punti e guardiamo avanti a quello che che verrà anche perché ci sono partite difficili per non parlare del recupero con l'euro giri falco e del borgia sì per noi è una settimana importante perché comunque avremo due partite ravvicinate in due campi molto difficili come giri falco e borgia e vogliamo approfittare di quel della possibilità insomma di questa pausa domenicale per fare qualche allenamento in più e arrivare queste due partite nel migliore dei modi perché secondo me saranno un punto è un momento importante per per il nostro campionato un tempo si diceva ma erano mentalità vecchia ma tra squadre lo stesso comprensorio bisogna aiutarsi quando il nemico e vi buonese ma noi parliamo di calcio giocato e ci divertiamo a combatterlo sempre sì non credo anche perché poi andiamo a vedere altre situazioni in altri campi e succede esattamente la stessa cosa nel senso che il san calogero si è ritrovato a perdere tre punti in casa con il mileto che sono vicini quindi la stessa cosa può succedere come giusto che sia nel calcio l'imprevedibilità delle gare domenicali noi la dobbiamo accettare quindi è normale che invece queste diventano le partite più difficili perché comunque noi portiamo avanti una nostra idea di voler rimanere nelle prime posizioni e le altre squadre che ci ospitano in questo caso sicuramente ci aspettano con la giusta concentrazione e convinzione di voler abbattere una squadra che comunque sta facendo bene come noi e come la situazione lo spogliatoio l'infermeria è vuota le prospettive per questa settimana che vi attende tutto tutto bene recuperiamo anche un giocatore che si era fermato per un piccolo infortunio che era De Masi e ho preferito farlo riposare contro il Lamezia quindi sono contento i ragazzi si allenano come sempre ad alta intensità e con grande voglia quindi siamo fiduciosi per questa settimana che secondo me deciderà un campionato mister la vostra porta in casa è violata pochissimo se non vado errato tre gol due di questi li ha fatti la Serrese anche qui se non mi sbaglio con i conti significa che insomma forse con le piccole si rischia di più la Serrese ce li ha fatti lì a Serra ecco allora vede che avevo sbagliato i conti però sono tre i gol subiti ma in ogni caso non esistono piccole e grandi a mio modo di vedere perché ogni partita sicuramente diventa complicata soprattutto quando ci sono squadre che hanno delle individualità importanti sembrano essere un po' più indietro come classifica ma in realtà le individualità possono fare la differenza e mi riferisco proprio a queste due squadre che andiamo ad affrontare tra mercoledì e domenica perché hanno delle individualità importanti secondo me fare due buone gare per noi può essere un banco di prova importante quindi dobbiamo stare molto attenti e allora visto che abbiamo disturbata stasera ci guarda Fausto Varano un saluto a domenica gol e a tutto lo staff che un po' tifa Montepaone ma lo diciamo a bassa voce un saluto a tutti e Forza Montepaone all'arte